Anticipazione imposta al sole, lunedì 13 aprile 2020. Greta è distrutta e fa di tutto per riconquistare i fermi, ma lui ferito e deluso la tiene a debita distanza. Successivamente le propone un accordo molto vantaggioso dal punto di vista economico, ma purtroppo veramente distruttivo a livello umano. Angela è in ansia. La giovane è in attesa del momento opportuno per parlare con Franco di Nunzio. Renato invece sta molto male perché i suoi figli non si sono ricordati della festa del papà. Guido è sempre più soggiogato da Isabella. Andrea notando la sua sofferenza gli suggerisce una valida soluzione per liberarsi di lei. Grazie a tutti.